Sarà l'esame del DNA a stabilire con altissima probabilità se Giovanni Venneri sia il padre di Angelo Narcisi. I giudici della Corte d'Appello di Potenza hanno stabilito la riesumazione della salma dell'imprenditore potentino, molto noto in città, morto alcuni anni fa, a chiedere il riconoscimento di paternità. Angelo Narcisi, 56 anni, imprenditore che ha fatto fortuna prima in Belgio e ora in Olanda, ha avviato la causa per il riconoscimento della paternità una quindicina di anni fa per poter portare il cognome di quell'uomo sposato che nel 1958, stando a quanto ricostruito dei suoi legali, ebbe una relazione con una donna dalla quale nacque Angelo. I primi anni in orfanotrofio a Bari, poi ad Andrea, l'adolescenza a Venose e a Vigliano, fu venere a svelare ad Angelo che era suo figlio. I due continuarono a sentirsi e vedersi nonostante la distanza. Narcisi spesso tornava a Potenza per incontrare quell'uomo che gli aveva detto di essere suo padre e che gli aveva promesso che un giorno gli avrebbe dato finalmente il suo cognome. L'iter giudiziario è stato molto lungo. In primo grado, dopo 11 anni di causa, il Tribunale ha dichiarato Angelo Narcisi figlio naturale di Venneri. Ora la Corte d'Appello ha disposto alla resumazione della salma dell'uomo. Verrà fatto l'esame del DNA, si potrà poi stabilire se la persona è mio padre o non è mio padre. Quindi questo è l'obiettivo per me più importante per scoprire questa verità.